Buongiorno a tutti e bentrovati. Atlantia, ex autostrade, ha raggiunto un accordo sindacale per concedere 10 giorni retribuiti a chi svolge attività di volontariato e di servizio sociale. Un segnale molto importante, per la prima volta in Italia una società quotata in borsa si apre a un concetto di cittadinanza attiva e dà questa possibilità ai suoi dipendenti. Un esempio da seguire e che potrebbe incentivare altre società a svolgere gli stessi passi e a dare l'opportunità ai propri dipendenti di non perdere giornate di lavoro e al contempo di svolgere un servizio prezioso per la collettività. Grazie e arrivederci alla prossima occasione.